Buongiorno a tutti, oggi è il 3 di novembre e vi voglio raccontare com'è andata sabato che abbiamo fatto un comizio in piazza Pasi a Trento e vi dirò che il nostro comitato Popoli Liberi Trentino su Tirol si sta comportando bene perché sabato abbiamo fatto quasi tre ore di comizio spiegando, era una commemorazione per i caduti in Italia, le persone che si sono suicidate per colpa della crisi economica italiana, operai, imprenditori, abbiamo fatto una relazione ma abbiamo parlato anche dell'autonomia, nel nostro comizio avevamo esposto una strisione autodeterminazione, Freiheit für Tirol e per la liberté der Tirol in Ladino, allora col nostro simbolo che è di Popoli Liberi, Frai e Volker, vi dirò che la soddisfazione migliore è stata vedere la gente che voleva il nostro volantino, quando mai la gente vuole volantini di simboli o movimenti o comitati che parlano in un comizio in una piazza, a me è successo e sono veramente felice. Siccome il nostro movimento, il nostro comitato è un bel po' che si muove più di un paio d'anni, che dal 2013 ci stiamo muovendo, che parliamo di autodeterminazione, che parliamo di separarci dall'Italia, sto notando sui giornali che adesso le dichiarazioni anche in Trentino, finalmente lo Sfonrom, finalmente parlano, abbiamo risvegliato qualcosa che mi fa piacere. Allora, questo qualcosa che mi fa piacere fosse dimostrato nei fatti, sarebbe anche bello e io mi auguro che vada avanti in questa maniera, perché abbiamo spiegato anche cosa significa autodeterminazione in piazza Pasi quel giorno e anche del problema della nostra regione che ha perso l'autonomia in pratica con l'ultimo trattato che è stata fatta a Roma, anche se sulla carta c'è scritto regione autonoma, ma se ci toggono tutti i privilegi fiscali, se ci prendono tutto, se la percentuale arriva quasi al 30%, vuol dire che l'autonomia l'abbiamo persa e la crisi economica nella nostra provincia sarà ben più forte che nelle altre regioni ordinarie d'Italia. Allora, perché voglio fare questo video? Perché voglio far sapere, allora, gli amici di Facebook e quelli che vanno in YouTube e tutto, iscrivetevi intanto ai nostri gruppi, infatti iscrivervi gli amici perché tenterò di dare sempre delle spiegazioni sotto questo profilo. Allora, li provoco ancora di più adesso, perché a me piace provocarli? Adesso li ho spinti, no? E allora spero che tutti dicano Lost from Rome e che tutti dicano l'autodeterminazione, che tutti dicano ci separiamo dall'Italia. Non abbiamo bisogno di andare con l'Austria, con nessuno, possiamo camminare da soli. Per camminare da soli però bisogna avere delle idee in testa, un bel progetto che non è facile. Diversi mesi fa avevo lanciato anche dieci punti su questo. Ma sapete qual è la mia provocazione? Adesso organizzerò una tavola rotonda e voglio seduti a quella tavola quelli che hanno parlato di autodeterminazione, perché mettiamo giù allora le basi, mettiamo le basi per fare il referendum per l'autodeterminazione. Ecco la mia provocazione dov'è. E voglio vederli tutti attorno a quel tavolo, perché siamo tutti amici se la pensiamo in questa maniera. E a me fa piacere, fa molto piacere, perché noi non siamo ancora un partito, però può darsi. Perché la provocazione deve avere un fine anche. Il fine è l'autodeterminazione. Allora devo smascherarli tutti. Allora io lancio oggi l'invito, l'invito, perché voglio essere amico con tutti, voglio che tutti ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo cosa fare. Decidiamo cosa fare. È il referendum. Il referendum. Dobbiamo far parlare la gente, dobbiamo spiegare alla gente perché bisogna arrivare all'autodeterminazione. E tutti quelli che oggi dicono loss for home e autodeterminazione, vi voglio vicini a quel tavolo. Parliamone assieme, ci mettiamo d'accordo. Ci mettiamo d'accordo anche come spiegarlo alla gente, perché a me piace spiegarlo alla gente, che possiamo camminare da soli. Io le idee le ho molto chiare e voglio sentire anche le idee degli altri. In che maniera vogliono arrivarci. Perché non basta fare un pezzo di carta a scrivere qualcosa come l'Euroregion Tirol, che sono vent'anni che ce la smenano e che alla fine cos'è rimasto? Tutto sulla carta. Cioè è una presa in giro. È la stessa discussione di quando chiedevano le armi agli Schützen, i vari Bund chiedevano le armi e nessuno aveva mai scritto una domanda a Roma, al Ministero degli Interni. Chi è stato il primo? Il sottoscritto. E dopo hanno preso anche le armi, perché allora hanno dovuto mettersi ai ripari, andare di corsa, aspetta che adesso non ha fregato di tutti quanti, questo qua il gas ha la sua compagnia che il gas ha il diritto di sfilare con le armi. Però la mia provocazione di allora è andata a buon fine, perché gli Schützen possono sfilare con le armi. E questo ne godo, è un piacimento. Non me ne frega averli in primatum, non me ne frega niente. L'importante è che abbiamo raggiunto lo scoppo. Allora tutte queste piccole invidie, coro mi, provo mi, guarda che forse il primo nel gare sono, penta che lo proviamo, perché se no sto qua ne scampa e chissà che ne para via tutti dopo. No, no. Dobbiamo andare tutti d'accordo se abbiamo lo stesso obiettivo. Dobbiamo sederci assieme, parlarne, perché solo uniti si raggiunge l'obiettivo. E non tutti questi gruppuscoli e tutte queste cose qua. Mi sono andata solo, abbiamo fatto un comitato, abbiamo fatto un gruppo, perché nessuno voleva tirarla fuori il discorso dell'autodeterminazione. Adesso ci stiamo arrivando. Era ora Trentini. Grazie, grazie ancora. E allora ricordatevi che vi darò la data per questa riunione. E a quella riunione voglio vedere tutti quelli che hanno parlato di autodeterminazione, perché ne parliamo assieme. Facciamo una tavola rotonda, ne discutiamo qual è il vero progetto per portarla a termine, non solo a chiacchiere però, con i fatti. I fatti vuol dire referendum, vuol dire impegnarsi a fare quello che è l'obiettivo finale, autodeterminazione. Grazie, questo vi dovevo. Primon da Trento sempre.